Benvenuti a tutti in questo nuovo video cari amici di Makevoo, oggi sotto la nostra lente Powerbank targato EasyHack. Andiamo brevemente a vedere cosa c'è all'interno di questo pacchetto che ci è arrivato oggi da Amazon. Ricordo che nella descrizione vi lascerò il link per poterlo acquistare direttamente voi, link che vi riporta da Amazon. Abbiamo qui il prodotto che è in offerta su Amazon a 22,99€ anziché 52,99€ quindi se avete intenzione di acquistare un Powerbank approfittatene adesso. Vi faccio vedere come è strutturato, abbiamo qui il manuale delle istruzioni come al solito, abbiamo un piccolo bigliettino da visita per poter usufruire dell'assistenza EasyHack. Non so come deve essere pronunciato però, bando alle chiacchiere. Andiamo a vedere come si presenta questo dispositivo. Il Powerbank è veramente di qualità, io ce l'ho in prova da circa 5 giorni, questo è nuovo, mi è arrivato oggi. Qua abbiamo il tasto accensione e spegnimento con i vari led che ci notificano lo status della batteria, quindi batteria residua. L'input per dare la carica al Powerbank e poi abbiamo questa uscita USB per poter ricaricare i nostri dispositivi, tablet o smartphone che esso siano. Abbiamo un design veramente molto accattivante, molto bello anche questa soluzione che adotta EasyHack, scusate la pronuncia però non so veramente come debba essere pronunciato. Abbiamo un cavo micro USB, diciamo, incorporato al Powerbank. Questa è una soluzione molto molto intelligente, molto smart, come stesso definisce la marca del dispositivo, oppure perché, ritornando sulla smart USB, come la chiama EasyHack, che in pratica è un'uscita adattiva, un power smart, come la chiamano su Amazon, perché in pratica riconosce il nostro dispositivo collegato, va a sprigionare, se così vogliamo dire, il massimo dell'energia, diciamo, compatibile con il dispositivo che abbiamo collegato. In pratica, se colleghiamo un S6, riconosce che l'S6 ha compatibilità con ricarica veloce e quindi sprigiona il massimo della corrente, quindi il massimo dell'energia. Andiamo a collegarlo con il nostro smartphone Galaxy S6 Edge, con il cavo che abbiamo in dotazione collegato, perché è un cavo micro USB, faccio vedere, eccoci qua, vedete, tramite cavo, caricatore collegato, circa un'ora e quattro minuti al completamento della carica. Abbiamo un 43% di carica residua, quindi non è molto il tempo che impiegherà a ricaricare lo smartphone completamente. Ricordiamo, il power bank è da 9000 mAh, quindi molto molto potente ed è anche molto molto compatto. Guardate, ve lo metto a paragone con un S6, veramente molto piccolo rispetto ad altri power bank provati. Nonostante sia molto potente, 9000 mAh, le dimensioni sono abbastanza ridotte, quindi potrete fare circa due ricariche e mezze dell'S6, tre ricariche e mezze dell'iPhone 5, 5S e 6. Quindi, detto questo, come al solito, alla fine dei miei video vi invito a mettere mi piace al video, condividerlo ed iscrivervi al canale. Mi raccomando, aiutateci a crescere. Ciao! Ciao!